Sono d'accordo? Pensiamo che siamo impegnati per creare ma noi stai chiamando un po' pesato e che ti viene? Non è che ti ho mandato! Anche in conseguenza la giornata finale la giornata finale per l'automazione e per le persone che si sono dedicati a produzione dei cittadini l'abbiamo chiamata insieme il concetto del cuore ma devo dire fa piacere che abbiamo avuto con la simpatia che abbiamo visto la prima volta ringraziamo gli adulti che mi hanno spiegato i colori che hanno permesso e l'anio, la prodotto tutti gli amici che sono intervenuti so che vengono le mie amici di gente da Torino si muove e quindi se questo è quello che ho spiegato non perderebbe visto il paese parecchia un po' più rilato la pasta perché qui ci saranno che accenderebbe non mancano non mancare Grazie. 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 Grazie.